Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Firenze per lavori si segnalano 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est e 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. In direzione Mare, code per un incidente avvenuto al km 9.300 tra Lastra, Signa e Ginestra Fiorentina. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A15, rallentamenti per lavori tra Pontremoli ed Aulla, in direzione La Spezia. Su raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!